Iniziata oggi la marcia a piedi su Palermo per protestare contro la regione per l'avvertenza terma e nell'omusumeci intervenuto il nostro Tg si difende dicendo di aver rimediato in tre anni i disastri fatti dal governo Crocetta in cinque anni. Francesca Valenti alla guida della marcia su Palermo non commenta le ultime polemiche ma ammette di esserne dispiaciuta. Oggi al via alla manifestazione bambini, associazioni, comitati e l'ex sindaco Ignazio Cucchiara. Guarito dalla leucemia il bimbo ungherese di due anni curato con le cellule staminali conservate presso la banca del cordone ombelicale di Sciacca. Zappia dice da oggi Sciacca e Budapest unite da un cordone ombelicale. Ospedale di Ribera è ufficiale il percorso di rifunzionalizzazione della struttura in Covid Hospital con pronto soccorso Covid. Soddisfatte le parlamentari Savarino e la Rocca Rugola, l'ex sindaco Mangia Cavallo. Covid continua a rallentare la curva dei contagi in provincia di Agrigento. A Sciacca i positivi sono 55, 8 a Ribera ma resta critica la situazione a Menfi dove altri 6 casi hanno portato a 36 il totale dei contagiati. Lotta al Covid-up vaccinale di Sciacca pronto all'interno della Casalbergo per anziani della Perriera. L'apertura avverrà nelle prossime ore ma senza inaugurazione alla presenza di Musumeci. Un cordiale saluto e ben trovati su Telemonte Cronio per il consueto appuntamento con l'informazione. Non mi aspettavo queste speculazioni politiche. Quando veniva a parlare con me la sindaca era una colomba mentre con i suoi concittadini si comporta da falco. Questo uno dei passaggi dell'intervista che il presidente della regione Nello Musumeci ha rilasciato oggi al nostro telegiornale. Il governatore ha commentato la marcia su Palermo per protestare contro la regione proprietaria delle Terme di Sciacca per lo stato di abbandono. Il presidente ha riepilogato tutte le iniziative condotte dal suo esecutivo riconoscendo che i bandi sono andati deserti perché poco appetibili e chiudendo definitivamente il possibile coinvolgimento dell'Inail. Ha confermato il capo di Palazzo d'Orlean che si interverrà con una manutenzione straordinaria ma occorre ancora trovare soldi così come aveva sostanzialmente anticipato Margherita la Roccarubolo nei giorni scorsi. Ma ascoltiamo Nello Musumeci intervistato da Massimo D'Antoni. Non si può pensare che dopo decenni e decenni di abbandono, di omissione, di indifferenza, di superficialità, di strumentalizzazione, di clientelismo, di gestione allegra, non si può pensare che in tre anni adesso il governo Musumeci debba poter fare il miracolo. Questa è solo speculazione politica. La gente lo capisce e sa giudicare. Lo dico con grande amarezza, vi giuro, con grande amarezza perché pensavamo di poter mantenere col comune di Sciacca un rapporto improntato a reciproca collaborazione. Non è così, faremo tutto da solo. Ma lei ritiene che questo rapporto sia definitivamente compromesso perché da come lei parla sembra che ormai non ci sia la possibilità di rivedersi e ridiscutere. Ma lei parla normale che un parlamentare regionale, un sindaco, si mette a fare teatro? Perché di questo si tratta? Io dico sempre meno teatro in politica e meno politica nel teatro. Strano il comportamento del sindaco che quando veniva a parlare da noi faceva la colomba, quando parlava con i suoi concittadini faceva la Iena, il Falco, insomma decidete voi quale. L'unica cosa certa è che noi abbiamo proceduto a tappe graduali per recuperare le terme di Sciacca. Intanto abbiamo aperto una interlocuzione con gli organi tecnici perché la catastrazione delle partite che riguardavano le terme, un atto propedeutico essenziale se vuoi alienare o se vuoi concedere in gestione le terme, è quello di avere chiaro qual è la consistenza patrimoniale. Non c'era, non esisteva, era una grande confusione, particelle che non figuravano o che figuravano ad altre intestazioni. Di questo avrebbe dovuto avere cura l'amministrazione comunale di Sciacca, ma l'amministrazione Valenti ha alzato bandiera bianca e ci siamo sostituiti noi nel processo di catastrazione dei beni di Sciacca. Non è il proprietario che si deve occupare di queste cose, di questo aspetto? L'amministrazione è stato assunto un impegno secondo il quale quel processo doveva essere curato dal comune di Sciacca. Lo abbiamo fatto noi fra mille difficoltà anche di carattere tecnico e non abbiamo nessuna difficoltà a dire che siamo contenti di averlo fatto perché altrimenti ancora ci troveremmo in mezzo al guado. Ma il tema è capire a che serve la speculazione politica. Non serve ad accelerare un solo giorno questo processo, perché con il lockdown, con la pandemia, soltanto un folle può pensare che ci possa essere un gruppo imprenditoriale deciso a rilevare le terme. Noi siamo lì da poco più di tre anni, se ne parla da trent'anni e quello che abbiamo fatto in tre anni non è stato fatto negli anni precedenti. Ecco perché noi crediamo che adesso che la conferenza delle regioni ha considerato le terme, il complesso termale di Sciacca un bene di carattere nazionale, diventa più facile mettere in vetrina questa nostra offerta, riducendo magari il canone, intervenendo noi a spese nostre per poter rimettere in toletta, vorrei dire, l'impianto e le strutture, gli edifici che riguardano il complesso termale. Ma tutto va fatto con gradualità, non si può pensare che dopo decenni e decenni di abbandono, di omissione, di indifferenza, di superficialità, di strumentalizzazione, di clientelismo, di gestione allegra, non si può pensare che in tre anni adesso il governo musulmane ci debba poter fare il miracolo. Questa è solo speculazione politica. In coda al notiziario potrete seguire l'intervista integrale al presidente della regione Nello Musumeci a seguire lo speciale sulle terme dedicato all'avvio della marcia su Palermo. Ed è iniziata questa mattina la marcia su Palermo per le terme, l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per protestare contro la regione siciliana proprietaria del patrimonio termale che dopo sei anni dalla chiusura di tutti gli impianti non ha ancora trovato una soluzione per riaprirli e rilanciarli. Siamo andati anche noi, vediamo. Proprio non intendo neanche replicare sulle polemiche perché oggi non è giornata per fare polemica. Mi dispiaccio, mi dispiaccio tanto, lo devo dire con grande sincerità e con grande onestà intellettuale. Mi dispiace, mi dispiace da sindaco, non mi dispiace da colore politico, proprio perché era l'occasione buona per dimostrare quanto la città possa essere unita di fronte a qualcosa a cui tiene particolarmente. Invece non è così, ne prendiamo atto, andiamo avanti. Così oggi Francesca Valenti, poco prima dalla partenza della marcia a piedi su Palermo lungo il cammino di San Bernardo da Corleone. Una manifestazione che giunge al culmine di uno stilicido di notizie sul futuro degli impianti termali chiusi sei anni fa. Associazioni, comitati e per una foto anche i bambini simbolo di un futuro tuttora incerto, quello delle terme di Sciacca. Tra i presenti questa mattina nel piazzale delle terme anche il sindaco di Sambuca, Leo Ciaccio. A presidente della regione, gli volevo ricordare che non è più presidente della provincia di Catania, è presidente della regione Sicilia. Mi auguro che dimostri con la risoluzione di questo annoso problema delle terme di Sciacca che effettivamente i siciliani quando lo hanno eletto presidente lo hanno eletto per fare l'interesse di tutta la regione Sicilia e non solo, di una parte della Sicilia. Manifestazione come si sa al centro di polemiche, questo malgrado nessuno dell'amministrazione comunale abbia certamente preso le difese dell'esecutivo guidato da Rosario Crocetta, quello che il 6 marzo del 2015 sigillò gli impianti termali. Stamattina alle 7 siamo qua per testimoniare questa grande voglia di ripresa che ha la città e che passa assolutamente dal rilancio delle terme della città. Vediamo tanta gente, vediamo tanti amministratori anche delle città vicine, c'è impegno, c'è soddisfazione, ci sarà fatica però alla fine conteremo di portare in porto un bel risultato. E mentre fa discutere perfino lo striscione contro Nello Musumeci, oggi al via alla partenza della marcia c'era anche Ignazio Cucchiara, il sindaco che nel 2003 promosso il referendum fallito per mancato raggiungimento del quorum per cambiare il nome di Sciacca in Sciacca Terme. Allora le cose non sono andate bene, è stata una grande delusione perché non si capisce per quale ragione la gente non ha votato. Parlare male o attribuire la responsabilità agli altri non appartiene alla migliore tradizione della democrazia, per cui io penso a quel 2003 con un cocktail di sentimenti, quello che prevale è che bisogna andare avanti assolutamente, non fermarsi agli errori del passato. Questo mi fa sperare che alla fine noi riusciremo a ottenere determinati risultati. Le terme non sono appannaggio di nessuno in particolare, le terme appartengono a questa città, la città fortemente rivuole le proprie terme perché è un volano di economia e di sviluppo. La questione terme è da anni al centro del tentativo di individuare un investitore disponibile ad ottenere gli immobili in concessione allo scopo di rimetterli in sesto e rilanciarli. Sono stati tre gli avvisi pubblici che tuttavia sono andati deserti. Più recentemente il presidente della regione, Nello Musumeci, aveva annunciato il coinvolgimento dell'Inail come possibile soggetto a cui affidare le terme, ma anche questa strada sembra non essere andata a buon fine. Nei giorni scorsi la parlamentare regionale di Forza Italia, Margherita Larocca Ruvo, l'ha dichiarato che il governo è orientato a finanziare il recupero dei beni termali al fine di renderli più appetibili, prima di varare un nuovo bando, dichiarazioni su cui oggi polemizza apertamente il deputato regionale Michele Catanzaro. Oggi si parte con questa marcia, ma le chiedo novità dal palazzo della regione, ce ne sono? Secondo me ha sbagliato l'interlocutore, perché non dovrebbe chiedere a me, dovrebbe chiedere a chi ha annunciato qualche giorno fa quel finanziamento per le terme di riqualificazione, l'aggiunta che si doveva riunire, però ad oggi non abbiamo nessuna notizia e fortunatamente noi siamo andati per la nostra strada, più convinti di prima, infatti questa mattina ne è la testimonianza. sono davvero contento perché la città ha dato la sua risposta con le associazioni presenti, con i comitati presenti. Cittadini ma anche comitati, associazioni e perfino esponenti della Chiesa stamattina nel piazzale delle Terme per l'inizio della marcia su Palermo per protesta contro l'avvertenza Terme. Vediamo quest'altro servizio. Una delle cose che come comitato avete chiesto sin dall'inizio è proprio quella di fare manifestazioni dimostrative per fare in modo che le luci dei riflettori non soltanto si accendessero ma rimanessero accese. Sì, era uno degli obiettivi che c'eravamo posti anche con la discesa in piazza del 6 aprile 2020 che purtroppo non si è potuta fare per la questione della pandemia. Per questo, per le ragioni che stanno alla base di questa iniziativa, abbiamo espresso il nostro incondizionato consenso. Abbiamo avuto e abbiamo alcune riserve sulle modalità complessive dell'articolazione della protesta fatta così perché secondo noi non agevola la partecipazione e che moltissime persone, l'abbiamo constatato di presenza, non possono partecipare perché ci sono giorni lavorativi, perché sono giorni feriali, al di là di quella che è un pochino la timidezza tipica della città su questo argomento. Però ciò non toglie che le ragioni sono assolutamente condivisibili. Secondo noi la regione non ha fatto nulla, dico nulla, ci ha solo preso in giro per anni e anni. E quindi benvenga qualunque cosa che possa dar forza a questa presa di coscienza della città. La Camera del Lavoro aderisce perché attorno alla ripresa delle terme può esserci la ripresa anche occupazionale. Le terme per Sciacca rappresentano il volano principale per la Camera del Lavoro. Io come Camera del Lavoro da 12 anni predico di attivare tutte le economie di questa città attorno alle terme. Ma dal 2015 mi hanno anche tolto questa soddisfazione di poter dire che tutte le economie devono girare attorno alle terme. Adesso saranno le economie che se ce la fanno ce la devono fare da solo perché il volano è chiuso dal 2015. Questa è una cosa, una perdita gravissima per la storia, per la civiltà di questa città che proprio ha ruotato sempre attorno alle terme. Se oggi noi vogliamo creare il lavoro abbiamo bisogno anche perché nel terzo millennio l'economia è tutt'altra cosa rispetto a quella che abbiamo avuto la fortuna di avere negli anni passati oggi dobbiamo attivare tutte le leve economiche di questa città. Le terme sono il volano principale perché il turismo è il volano principale di questa città. Altrimenti saremo una città che verrà di quelle piccole economie che non avranno mai il respiro che possono dare le terme. La presenza dei due rappresentanti della Chiesa ha un valore particolarmente significativo oggi? Certo, perché noi siamo vicini sempre quando si tratta di problemi che riguardano la comunità e le terme di Sciacca per Sciacca sono una cosa importantissima e soffriamo tanto nel vedere ogni volta qui passare anni e vedere le terme chiuse in questo bellissimo di mare che noi abbiamo qui e quindi noi siamo qui con Pai Salvatore ci siamo messi in telefono con il beccario della città e con altri sacerdoti siamo presenti e quindi facciamo tanti auguri e diciamo forza perché può essere anche un segno per dire qui c'è un problema che va risolto non chiacchiere. In questo momento particolare che stiamo vivendo è bene che la comunità rimanga unita e il cammino richiama la forza, l'unione di ciascuno di noi quindi davvero che possa essere un momento bello un momento di grazia per la nostra cittadinanza e potere poi un giorno avere la possibilità di ritornare qui alle terme come un tempo per la nostra vita, per la nostra responsabilità. Grazie. La partenza della marcia a piedi per Palermo è sottoposta naturalmente come tutte le altre iniziative pubbliche alle restrizioni anti-Covid il cammino su disposizione della pubblica sicurezza avviene a gruppi di cinque persone opportunamente distanziati al seguito della carovana c'è anche un'ambulanza per eventuali necessità e ci sono anche i rappresentanti della protezione civile naturalmente nei nostri prossimi telegiornali vi daremo raguagli sulle tappe del cammino. Adesso ci fermiamo per una pausa restate ancora con noi. E' guarito dalla leucemia il bambino ungherese curato con cellule staminali provenienti dalla banca del cordone ombelicale di Sciacca una bella iniziativa per il picco della sua famiglia e al contempo una grande soddisfazione per l'efficienza dimostrata dalla banca cordonale Sacenze ha dichiarato il commissario dell'ASP Mario Zappia. C'è il servizio. Arriva il risultato sperato è libero dalla leucemia il bambino ungherese di soli due anni curato con cellule staminali provenienti dalla banca del cordone ombelicale di Sciacca. Sono stati in tanti in questi mesi ad avere manifestato un forte coinvolgimento emotivo per la vicenda del piccolo paziente colpito dall'eucemia in procinto di ricevere un trapianto di cellule staminali provenienti dalla banca del cordone ombelicale dell'ospedale di Sciacca. Oggi è arrivata la bella notizia per tutti quelli che sono rimasti in attesa di conoscere l'esito della procedura. Il bimbo adesso sta bene a seguito di un recente controllo e risultato libero dalla malattia. L'esito positivo dell'iter di trattamento si evince dal report semestrale redatto da Eurocord l'organismo internazionale che analizza gli esiti trapiantologici e rappresenta il frutto di un ponte sanitario che ha idealmente collegato Sciacca a Budapest per salvare la giovanissima vita. Nello scorso mese di ottobre dalla banca del cordone ombelicale del Giovanni Paolo II è partito il prezioso carico fatto di cellule staminali provenienti da sangue cordonale crioconservate presso la struttura saccense diretta dal dottore Pasquale Gallerano. La sacca donata da una mamma siciliana è stata immediatamente resa disponibile dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento e grazie alla stretta collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti il Centro Nazionale Sangue e il Registro Nazionale dell'Ospedale Galliera di Genova è stata recapitata in Ungheria per le successive fasi. Il buon esito della procedura ha commentato questa mattina il commissario dell'ASP di Agrigento Mario Zappia ci riempie di gioia per il ritrovato benessere del piccolo e per i suoi familiari e al contempo motivo di soddisfazione aggiunto per l'efficienza dimostrata dalla banca cordonale saccense un vero patrimonio salvavita che supera i confini nazionali. E' il caso di Dira concluso e responsabile dell'azienda sanitaria provinciale che da oggi le città di Budapest e Sciacca sono legate da un cordono umbilicale che esce dalle suggestioni della metafora e diviene reale e concreto. Banca del cordone fondata negli anni 90 dal compianto dottore Lillo Ciaccio. Con la firma del direttore generale dell'assessorato alla salute è ufficiale il percorso di rifunzionalizzazione dell'ospedale di Ribera in Covid Hospital con pronto soccorso Covid. Soddisfazione viene espressa da Giussi Sabarino e Margherita La Roccaruvolo mentre l'ex sindaco Carmelo Pace continua a non nascondere le sue perplessità Covid Hospital fatto a Ribera perché altrove nessuno lo voleva. Sentiamo. E' stata Giussi Sabarino ieri pomeriggio subito dopo che il dirigente regionale dell'assessorato alla salute La Rocca aveva firmato il provvedimento a rendere pubblicamente noto il via libera alla rifunzionalizzazione dell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera in Covid Hospital e pronto soccorso Covid dove probabilmente il significato stesso di rifunzionalizzazione indica che il futuro dell'ospedale se non si fosse presa questa strada non sarebbe stato Rosio la Savarino ha dato merito di questo passaggio a Musumeci a Razza e a Mario Zappia le fa eco stamattina la presidente della commissione salute dell'ARS Margherita La Roccaruvolo confermando come nel post Covid a Ribera verranno mantenuti reparti di terapia intensiva subintensiva geriatria e chirurgia generale e saranno attivati reparti di malattie infettive pneumologie lungo d'agenza esprime soddisfazione per il risultato raggiunto frutto di un lavoro dice l'onorevole La Roccaruvolo portato avanti in commissione salute all'ARS in sinergia col governo regionale e ascoltando in diverse audizioni le istanze provenienti dai sindaci del territorio adesso l'obiettivo conclude Margherita La Roccaruvolo è quello di portare la questione del pronto soccorso all'attenzione del governo nazionale affinché resti attivo anche dopo la pandemia come pronto soccorso no Covid si tratta di un passaggio importante sul piano formale che conferma un percorso già noto ma che tuttavia continua a dividere la comunità di Ribera l'ex sindaco Carmelo Pace continua infatti ad essere perplesso sul futuro ritenendo che la strada tracciata non sia quella migliore per l'ospedale Fratelli Parlapiano Lei non è convinto di quello che è stato detto che il pronto soccorso Covid visto che Ribera è ospedale Covid e il pronto soccorso tradizionale generalista non possono coesistere Sciacca fino a pochi giorni fa era in una situazione mista c'erano il recovery Covid e c'erano il recovery no Covid c'era il pronto soccorso Covid e il pronto soccorso no Covid dico Sciacca ma potrei citare tanti altre tantissime altre realtà siciliane e italiane Ribera si trova ad essere ospedale Covid e oggi qualcuno sbagliando lo sbandiera come un grandissimo risultato invece dobbiamo dire e i cittadini devono sapere le cose come stanno non è stato un grandissimo risultato la città di Ribera ha subito una scelta della politica regionale lo ricordano tutti in prima battuta erano stati individuati come ospedali Covid della provincia di Agrigento il San Giovanni di Dio di Agrigento e l'ospedale di Sciacca quella era una decisione ufficiale dopodiché ci fu una levata di scudi ma non soltanto da parte della politica da parte proprio degli operatori che lavoravano negli ospedali di Sciacca e Agrigento che poi hanno avuto il supporto delle varie associazioni ricordo che ci fu l'intervento del Tribunale del Diritto del Malato parlamentari che hanno osteggiato questa scelta motivandola per carità tant'è che il governo regionale tornò sui propri passi e individuò come unico ospedale Covid l'ospedale di Ribera noi non gioimmo nessuno diciamocelo chiaro nessuno voleva le persone infettate a casa propria lei era sindaco ho accolto quella notizia a denti stretti sono testimone assieme alla commissione sanità che magari poi ci torneremo tant'è che quando accettammo non volemmo ma accettammo questa decisione abbiamo messo io assieme agli altri sindaci alcune puntine sulle i una per tutte ok accettiamo il reparto Covid purché siano salvaguardati i reparti esistenti dal pronto soccorso per passare a tutti gli altri reparti per finire alla fondazione Maugeri quindi il reparto di riabilitazione quelle furono le richieste e in quel tavolo l'assessore protempore accettò queste nostre richieste nell'ennesima audizione della commissione sanità la rimodulazione del presidio ospedaliero di Ribera è un fatto non solo formale ma anche di sostanza un passaggio importantissimo che di fatto mette al sicuro rifunzionalizzandola e valorizzandola una struttura che era prossima alla chiusura questa è l'opinione dell'ex sottosegretario alla sanità Nene Mangiacavallo lo ha intervistato Massimo D'Antoni Onorevole Mangiacavallo la firma del dirigente regionale alla salute sull'ospedale di Ribera è un fatto soltanto formale o è anche sostanziale dal suo punto di vista non è una formalità è un atto carico di sostanza sia per il presente che per il futuro perché viene sancita non solo la rifunzionalizzazione dell'ospedale ma anche una programmazione di reparti di unità operative che tengono conto delle esigenze epidemiologiche di un'intera provincia e la cosa più importante è che un ospedale che diciamocelo francamente era destinato alla chiusura per motivazioni di vario genere viene rivitalizzato e viene assicurata la sua permanenza per il futuro non solo ci sono delle unità operative in questa programmazione che valorizzeranno ulteriormente i reparti che già sono esistenti e che vengono mantenuti perché vorrei ricordare che oltre ai 6 posti di chirurgia e ai 10 posti di medicina vengono aggiunti 10 posti di malattie infettive e 4 posti di pneumologia vengono mantenuti i 10 posti di terapia intensiva e di subintensiva che verosimilmente saranno destinati ad unità di terapia intensiva respiratoria ci saranno ben 34 posti di lungodeggenza e 16 posti per il recupero e la riabilitazione funzionale cioè la riabilitazione che molto probabilmente interesserà i cardiopatici e coloro i quali soffrono delle malattie dell'apparato respiratorio io esprimo grande soddisfazione grande compiacimento perché senza 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 dubbio io ho collaborato con il commissario straordinario dell'aspe di Agligento che ha dimostrato ancora una volta grande disponibilità concretezza pragmatismo e lungimiranza ci siamo confrontati ripetutamente abbiamo tenuto conto delle esigenze epidemiologiche abbiamo tenuto conto delle esigenze del territorio e prontamente ha avanzato questa richiesta all'assessorato che nell'arco di pochissimi giorni devo dire è stata soddisfatta viene assicurato anche il pronto soccorso covid che forse è il risultato più importante che si poteva conseguire ci auguriamo che questo pronto soccorso al più presto possa allargarsi ancora prima della riconversione quando ci sarà quando si registrerà il termine della pandemia ci auguriamo che già tra poco tempo possa allargarsi alle emergenze che si presentano quotidianamente il che significherà poter fornire una assistenza sanitaria di emergenza e ordinaria rispondente alle esigenze di un vastissimo territorio speriamo di ottenere anche il risultato in questa maniera di decongestionare l'ospedale di Sciacca con il quale lo ripeto per l'ultima volta bisognerà consolidare questo rapporto di complementarietà finalizzato ad un solo risultato promuovere veramente la salute per questo evidentemente bisognerà incrementare anche la rete territoriale per assicurare una vasta gamma di servizi che oggi purtroppo in alcuni settori registrano qualche carezza quindi il mio giudizio è altamente positivo ed esprimo grandissima soddisfazione non mancheranno i critici non mancheranno i detrattori ma fa parte del gioco della politica io ricordo e concludo quello che si è verificato qualche tempo fa quando me ne assumo la responsabilità ho fatto in modo che a Ribera arrivasse alla fondazione Maugeri in quella occasione si salvò dalla chiusura immediata all'ospedale di Ribera e molti criticarono aspremente questo mio interessamento anche dai pulpiti e anche in varie occasioni salvo poi ricredersi su quello che avevano detto oggi qualcuno sicuramente criticherà questa scelta ma avremo modo di farli ricredere con una efficienza con una efficacia delle scelte sanitarie che si intestano principalmente all'azione illuminata del commissario straordinario dell'aspre Hub vaccinale di Sciacca pronto all'interno della Casa Albergo per Anziani della Perriera l'apertura avverrà di qui a qualche giorno ma senza inaugurazione con Musumeci preferisco lavorare anziché inaugurare dichiara al nostro Tg il Presidente della Regione sentiamo il Presidente della Regione Nello Musumeci non prenderà parte all'inaugurazione del Lab di Sciacca nonostante la sua presenza in città fosse già stata preventivata e comunicata anche alle forze dell'ordine lo ha confermato al nostro telegiornale il Governatore della Sicilia che da ieri pomeriggio assieme agli altri componenti dell'esecutivo regionale è in quarantena a seguito della positività al Covid dell'assessore all'agricoltura Scilla una quarantena precauzionale posto che le riunioni di giunta l'ultima delle quali si è svolta venerdì scorso vengono effettuate in una sala molto ampia nel rispetto del distanziamento e con l'utilizzo della mascherina da parte di tutti non è da escludere dunque che nelle prossime ore tale misura precauzionale venga meno anche perché un primo giro di tamponi ha dato esito negativo per tutti i componenti della giunta regionale eccetto l'assessore Scilla ma intanto sono stati cancellati alcuni appuntamenti in agenda tra questi per il presidente Musumeci c'era anche l'inaugurazione dell'Abb di Sciacca il secondo grande centro vaccinale della provincia realizzato nella casa albergo per anziani di Contrada Perriera che dovrebbe consentire ulteriori 700 somministrazioni giornaliere un centro al quale il presidente Musumeci tiene particolarmente nell'ottica del potenziamento della campagna vaccinale in Sicilia sulla quale la regione ha puntato nelle scorse settimane accelerando e affidando alla protezione civile l'attivazione di 10 nuovi centri nell'isola abbiamo aperto 102 punti vaccinali in Sicilia proprio per andare incontro alla gente prima solo nelle città capoluogo adesso ovunque quindi Sciacca meritava per la sua importanza per la sua collocazione geografica per la dimensione per la sua densità meritava di avere un hub vaccinale no io purtroppo non ci potrei essere perché non faccio solo inaugurazioni devo fare anche il presidente della regione e lo faccio 18 ore al giorno ma le assicuro che tornerò presto a Sciacca la campagna di vaccinazione intanto va avanti e l'ultima novità riguarda la tre giorni di somministrazione del vaccino AstraZeneca ai quarantenni senza prenotazione da oggi a giovedì si potrà andare nei centri vaccinali e chiedere di essere vaccinati con AstraZeneca pur non avendo preso appuntamento una possibilità questa già data ai cinquantenni sessantenni e settantenni gli open day in Sicilia vanno avanti soltanto con i vaccini AstraZeneca e Johnson e Johnson mentre sono stati momentaneamente sospesi per i vaccini Pfizer e Moderna 100 milioni di euro per le nove ex province siciliane il governo musulmane ha ripartito le risorse per il 2021 assegnando 52,4 milioni di euro alle tre città metropolitane e 47,6 milioni di euro ai sei liberi consorsi comunali il provvedimento è stato firmato dall'assessore all'autonomia locale Marco Zambuto di concerto con l'assessore all'economia Gaetano Armao 4 i criteri seguiti nella suddivisione dei fondi lunghezza delle strade provinciali classi scolastiche delle scuole medie superiori di secondo grado popolazione superficie territoriale al libero consorzio di agrigento andranno 9 milioni 600 mila euro si è parlato di letteratura e cultura siciliana al plesso Miraglia del Don Michele Arena di Sciacca lo scrittore e saggista Enzo Randazzo ha approfondito con gli studenti alcuni in presenza altri online la figura di Emanuele Navarro della Miraglia precursore del verismo sentiamo l'Azio Magistralis dello scrittore e saggista Enzo Randazzo sulla figura di Emanuele Navarro della Miraglia questa mattina all'Aula Magna Falcone Borsellino del plesso Ipsia Miraglia del Don Michele Arena di Sciacca un approfondimento letterario ed umanistico che mira ad ampliare l'offerta formativa di una scuola di indirizzo prettamente tecnico-scientifico supportati dalle docenti Rosalba Catalano e Alice Titone gli studenti delle quinte classi hanno dialogato con Enzo Randazzo sia in presenza sia online per conoscere ed analizzare l'opera letteraria del Sambucese Emanuele Navarro della Miraglia precursore del verismo Emanuele Navarro della Miraglia che è lo scrittore più grande dal punto di vista della tessitura culturale della cultura italiana della seconda metà dell'Ottocento perché è il precursore del verismo lui che è stato dal 60 al 76 in brancia ma è anche quello straordinario profeta dell'altra Sicilia di cui parla tedesco cioè dell'opera di Luigi Pirandello della sua problematica del dramma tra essere e parere e quindi uno scrittore che ha una sua storicità è un nodo centrale della nascita del verismo italiano perché poi al Caffè Biffi di Milano lui vivrà assieme a Nerea vivrà assieme a Narradius assieme al Capo Ana assieme agli scrittori della colonia siciliana e lì creeranno il verismo attraverso l'esperienza che lui aveva maturato in Francia frequentando invece lì i salotti letterari francesi e mamma altre ma è anche uno scrittore di una modernità straordinaria pensate che La Nana è un romanzo scritto nel 79 viene pubblicato prima quindi dei romanzi veristi di Verga state attenti anche questo ma è anche il primo romanzo contro il femminicidio che ha una conclusione in cui una donna anziché essere uccisa perché aveva in qualche modo macchiato l'onore dell'uomo che la amava viene perdonata abbracciata e amata all'interno di questa e quindi è portatore di questo messaggio molto avanzato per cui pur avendo questa saldatura storica importante nella sua opera è uno scrittore che ancora oggi si può leggere con intensità con passione e con spirito di modernità quasi di contemporaneità è bene non dimenticarsi delle proprie radici e è bene rinnovare nei ragazzi la conoscenza e la passione per la cultura anche umanistica noi non a caso abbiamo scelto questo momento importante col professore Randazzo l'abbiamo dedicato proprio agli studenti dei corsi terminali dell'istituto tecnico indirizzo tecnologico e dell'istituto professionale abbiamo voluto fare come dire un regalo a questi giovani che si accengono a sostenere gli esami di stato e quindi a intraprendere il loro cammino che sarà un cammino di sviluppo professionale o forse anche gli studi superiori torniamo in studio con i consigli della libreria Mondadori Peggy Guggenheim nacque nel 1898 da una ricca famiglia ebrea di industriali americani dopo aver ereditato un patrimonio ingente decise di abbandonare gli studi e partì alla scoperta dell'Europa vi rimase circa 20 anni frequentando il mondo letterario e artistico che aveva a Londra e a Parigi i suoi centri principali e diventando una mecenata nel senso più ampio del termine nel periodo tra le De Guerre arrivò ad acquistare un'opera d'arte al giorno ne collezionò anche con una passione divorante gli autori amica e amante di molti moglie per periodi più o meno lunghi di alcuni musa per tutti nel 1941 tornò negli Stati Uniti con la sua collezione che organizzò nell'Art of the East Century una galleria d'arte che rapidamente divenne internazionalmente famosa nel 1948 espose la sua collezione alla Biennale di Venezia affascinata dalla bellezza della città non l'abbandonò più acquistò Palazzo Venier De Leoni affacciato sul Canal Grande e ne fece una casa museo una vita per l'arte e la storia della sua vita straordinaria e delle sue relazioni travagliate con scrittori e artisti famosi ed è anche la storia di un importante periodo artistico e dell'innegabile influenza che su di esso ebbe Peggy Guggenheim un'esistenza interamente dedicata all'arte fino all'anno della sua morte 1979 che la colse a Venezia nei cui salotti aveva regnato come l'ultima dogaressa una vita per l'arte confessioni di una donna che ha amato l'arte e gli artisti di Peggy Guggenheim Edito Burr Sciacca sarà sede del prestigioso appuntamento per il Gran Galà Mondiale di Kickboxing saranno assegnati numerosi titoli e arriveranno i migliori campioni del circuito la manifestazione è organizzata dal manager sportivo Francesco Schembri vediamo Kickboxing e Muay Thai saranno le discipline protagoniste al Gran Galà Mondiale degli sport da combattimento che si terrà il prossimo 24 luglio a Sciacca presso lo stadio Gurrera la manifestazione che prevede la partecipazione di tanti campioni titolati è organizzata dal manager e promoter italo-tedesco Francesco Schembri che ha sotto contratto oltre 160 atleti oltre agli atleti campioni saranno presenti a questa manifestazione anche due atleti del sodalizio di Sciacca Bushido Team diretto dal maestro Francesco Graffeo il 24 luglio essendo nativo delle zone di Montallegro e la mia palestra è stata a Sciacca 30 anni fa abbiamo deciso con gli amici di qua del centro servizi parlando di portare Steven da Sciacca e saranno presenti attuali numero uno a Glory atleti di One Championship come Andrea Stoica Enrico Kiel oppure Ben Adebuy che ha vinto per capo contro Badalar la leggenda del kickboxing e saranno presenti qua a Sciacca di cui faremo pure oltre a faremo un sommacamp dove loro stessi saranno presenti Alfio Romanotti e oltre a questo faremo nella serata dell'evento 10 match di titoli internazionali mondiali international titoli italiani pure titoli europei intercontinentali di varie federazioni le migliori federazioni del mondo come l'AVBC l'AVSO VK saranno assegnate quindi anche le titoli sì parteciperanno anche degli atleti di Sciacca allora abbiamo due ragazzi di Sciacca che parteciperanno dal maestro Francesco Graffeo che ringrazio un grandissimo amico saranno presenti che affronteranno altri atleti italiani che faranno i primi match in questo grande evento questi sport da combattimento quali sono a parte la kickboxing allora sarà kickboxing che diciamo come K1 e poi c'è pure la Muay Thai per chi non è esperto che cosa si intende per Muay Thai per chi non è esperto del settore che cosa si intende per Muay Thai? quali sono le differenze a livello sportivo tra Germania e Italia? allora il cosa è che noi in Italia qua pure in Sicilia abbiamo parecchi atleti con tanto valore ma poco valutati poco seguiti e poco valutati ora siccome io sono un tipo che mi piace farli crescere e cercare di portarli più alto che posso giusto? e qua in Sicilia abbiamo tanti talenti ma non hanno le opportunità che meritano Equitazione le Amazzoni del Centro Ippico La Criniera di Sciacca hanno conquistato il podio ai campionati Progetto Sport che si sono tenuti a Palermo c'è il servizio le Amazzoni del Centro Ippico La Criniera di Sciacca hanno conquistato il podio ai campionati Progetto Sport Carla Raia su cavallo Ammirau ha vinto nella categoria B80 l'Amazzone allieva del Centro Ippico La Criniera di Sciacca seguita dall'istruttore federale Roberto Fasulo ha ottenuto il primo posto durante le gare che si sono svolte al Centro Ippico Villa Pensabene di Palermo nell'ambito dei campionati Progetto Sport ottimi i piazzamenti anche degli altri cavalieri allievi del Centro Saccenze in particolar modo Andrea Alfano ha ottenuto il secondo posto nelle B10 100 su Leggenda Chiara Sarnella ha conquistato il terzo posto su Esquire nella categoria B100 Viola Accardi il quarto posto nella categoria B100 su Lezi ottimi i piazzamenti anche delle Amazzoni Noemi Marino Maria Francesca Marsala ed Elisa Bono Le atlete hanno dato prova di grande professionalità ha commentato il presidente del Centro la criniera Roberto Fasulo ancora una volta abbiamo vissuto dei momenti di grande soddisfazione che ripagano dei tanti sacrifici fatti durante gli allenamenti svolti grazie anche allo staff di accompagnatori e soprattutto ai genitori degli allievi Centro Ippico Saccenze che adesso si prepara per i prossimi appuntamenti agonistici in calendario nel corso dei mesi estivi con l'equitazione si chiude il nostro telegiornale vi ringrazio per averci seguito e vi do l'appuntamento a tutte le prossime edizioni per gli aggiornamenti arrivederci